Chi è entrato per ripulire ha raccontato di una situazione raccapricciante con rifiuti, topi, escrementi umani e animali e anche siringhe. È un'ala dell'ex caserma Rossani di Bari che è stata sgomberata dalle forze dell'ordine. Era occupata abusivamente da una quindicina di senza tetto, italiani e stranieri, alcuni già noti ai servizi sociali. Le persone che alloggiavano qua sono state identificate e tranquillamente stanno raccogliendo le loro cose. Se il comune è disponibile è a dare una sistemazione a quanti abbiano diritto a ricevere una sistemazione dall'amministrazione comunale. Una situazione che si protraeva da fine 2014, segnalata più volte dagli abitanti della zona. Ci sono stati degli episodi, ad esempio degli incendi ripetuti nel corso degli anni. Era una situazione che onestamente non poteva continuare ad esistere in questi termini. Mi dispiace, ci dispiace per loro, perché ovviamente è gente che non ha una residenza, non ha una casa. Però questi immobili sono adibiti ad altro, saranno adibiti ad altro. Saranno adibiti ad altro perché qui a breve inizieranno i lavori di ricolificazione della struttura per realizzare la nuova sede dell'Accademia di Belle Arti di Bari. Questo è il secondo dei tre immobili previsti nell'Accademia delle Belle Arti che ospiterà alcuni uffici dei professori, aule didattiche e laboratori fondamentalmente. Quando inizieranno i lavori? Immediatamente, già da oggi l'impresa sta predisponendo la recinzione di cantiere. Senza soluzioni di continuità i lavori inizieranno per concludersi, così come è previsto da alcun programma, entro metà del 2025, in quanto la scadenza per la rendicontazione di tutti i finanziamenti ricevuti è a dicembre del 2025. L'altra ala invece non è interessata ancora dai lavori? Ci sono due immobili, uno è quello che vedete, l'altro è alle vostre spalle, sul quale i lavori sono già iniziati, per un importo complessivo di 18 milioni di euro totalmente finanziato, e poi c'è un terzo immobile sul quale interverremo non appena sarà disponibile la copertura economica, che è quello invece che ha accesso direttamente da Via Giulio Petroni.